guardate volevo fare un video che uscirà dopo di questo su One Piece dove voglio spiegare ai minus dotati tendenzialmente zoriani secondo me gli stessi che votano la Lega Nord e quindi dimostrano tre volte di non aver capito il manga che Shanks quando dice la sua sulla scommessa del suo braccio sta parlando in modo retorico ma lasciamo stare perché vi farò vedere che cosa è in grado di dire la gente per difendere la Mioc ma non è questo l'argomento del video questo di cui vi ho parlato uscirà tranquillamente dopo di questo e lo potranno vedere in anteprima coloro che si registreranno cioè si uniranno al canale Telegram Redazione Sottocultura che è il canale Telegram dove scrivo le cose che riguardano One Piece e tutto l'argomento del canale di Redazione Sottocultura quindi qui sotto in descrizione trovate il canale Telegram e c'è sempre comunque la pagina Il Grande Guerriero Sangi dove ormai da una vita affronto e divulgo il sangismo e che in questi giorni mi sta dando grande soddisfazione perché mi fa capire quanto le persone siano ritardate ma oggi volevo parlarvi di due teorie ma mi ha detto il buon Ronin che una teoria non è una teoria è già stata detta Urbi e Torbi e cioè che immaginavo però perciò ho chiesto a lui se fosse stata già detta che la teoria per la quale il combattimento avverrà durante la luna piena su Wano Kuni è perché i visoni devono utilizzare la loro versione Sholong Shilong Shulong adesso non ricordo come si chiamasse non sono massima enciclopedia mi interessa il concetto il contenuto e questo tipo di forza che loro sprigioneranno durante il periodo della luna piena permetterà loro probabilmente di levare un po' di pezzi grossi della battaglia ricordiamoci che cangatto e vipera gatto vipera cangà e cannistici adesso non mi ricordo non massima enciclopedia hanno tenuto testa tranquillamente a Jack dandosi il cambio mentre però diciamo Jack era era invece solo sempre contro i loro probabilmente una tale però potenza che si è vista proprio aumentare esponenzialmente non raddoppiare o triplicare ma aumentare esponenzialmente il potere dei visoni dovrebbe consentire a cane e gatto di poter togliere dall'equazione di Wano Kuni alcuni personaggi che saranno sicuramente di indubbia forza un'altra cosa che mi viene in mente un'altra teoria però penso che anche questa sia stata detta probabilmente su Dressrosa nell'ultimo capitolo abbiamo visto che la marina si su Dressrosa su Wano la marina potrebbe giungere e da quello che sembra che faccia di Ika Garp sembra che anche lui si possa giungere sul terreno di Wano Kuni e Garp è l'eroe che combatteva diciamo la ciurma pirata dove militavano Big Mom e Kaido quindi penso che finalmente vedremo Garp in tutta la sua forza e potenza lasciando stare queste teorie che saranno state dette da veramente tutti una cosa mi ha detto Ronin non è stata affrontata e cioè il potere di Basil Hawkins che ha sconfitto Zoro con dei chiodi ricordiamo Zoro ha dei nemici delle cose potentissime l'olio i camini tutta questa roba qui la grande forza di Zoro che non riesce ad uscire fuori dalla cera di Mr. Tree lo ricordiamo e viene anche appunto trafitto dai chiodi tanto da dover ricevere cure mediche di una certa importanza e mi dicono sulla pagina del grande guerrierosanji per difendere Rufy cioè Rufy si dovrebbe difendere da dei chiodi vabbè lasciamo stare dovrebbe essere difeso da dei chiodi va bene ora i poteri di Basil Hawkins sono stati sempre molto particolari il primo potere capacità skill che gli abbiamo visto usare è un calcolo delle probabilità su come potrebbero finire alcuni eventi una cosa che mi ricorda tantissimo tantissimo il buon Gudenner il buon Gudenner era riuscito a fare una previsione di come sarebbe andata la sfida che aveva messo in piedi su Skypiea per far rimanere cinque guerrieri che lui si sarebbe portato nel Vart Fatato ricordiamo che Ener aveva non solo un Aki dell'osservazione molto potente ma riusciva a intersecarlo con la sua elettricità e questo gli permetteva di ascoltare anche i discorsi che si facevano su tutta Skypiea un'altra bella amalgama che abbiamo visto di Aki e potere del frutto e anche Rufy che è riuscito a trasformare in Aki della corazza gommoso alcune parti del suo corpo tanto da resistere a delle punte dei colpi da contundenti con l'Aki ma preservando praticamente la sua elasticità e quindi mi chiedo se Basil Huckins abbia questo potere di previsione degli eventi basata sul fatto che l'ambizione dell'osservazione spinta fino a un certo punto abbiamo visto ad esempio che ha portato Karakuri a prevedere alcuni eventi non capisco se l'utilizzo delle carte sia davvero un modo per poter incanalare in qualche modo questa sua preveggenza questo suo Aki dell'osservazione o se le carte di divinazione che lui ha possono avere intriso magari dell'Aki dell'osservazione nel senso se abbiamo visto che le spade possono assorbire l'Aki dell'armatura perché non possono esistere altri oggetti che incalanano l'Aki dell'osservazione che insieme appunto ai poteri di un possessore di forte ambizione dell'osservazione gli permettano di calcolare le probabilità questa è la prima skill di Hawkins la seconda skill che abbiamo visto di Hawkins è quella di prendere in prestito diciamo così le vite di altre persone e di scambiarle al suo posto probabilmente c'è un limite perché fa riferimento al fatto che dopo che ha perso una vita lui ne avesse a disposizione altri 10 altri 9 un pirata così potrebbe tutelarsi mettendo dentro di 600 150 200 vite un numero immenso quindi non lo so ci sono sicuramente i limiti di questo frutto ma un'altra cosa che abbiamo visto proprio nell'episodio dove Zoro bisticcia perché è un bisticcio con Hawkins abbiamo visto che Hawkins tira fuori da una spada la stessa paglia di cui lo compone il suo frutto ecco quella spada è vuota lui tira fuori tutto questo fascio di paglia questo fascio di paglia si trasforma in appunto un mostro che è molto grande e permette a Hawkins di di battagliare su più fronti cioè mentre lui si trova in un posto questa questa sua estensione può arrivare molto lontano credo credo che possa trattarsi non di una spada che ha quel potere lì sarebbe un caso troppo grande che uno come Hawkins che ha la paglia trovi una spada che fa quella e soprattutto dove si trova una spada del genere c'entra con l'ingerimento dei frutti però ricordiamoci che abbiamo visto fino ad adesso il manga che sono i frutti di Zozo io credo che invece una spada cherebbe il suo potere non sia nient'altro che un risveglio del frutto cioè io penso che Hawkins abbia risvegliato il suo frutto e questo gli permetta di trasformare in paglia cose certo una teoria potrebbe essere che è lui stesso cioè la sua mano che fa fuoriuscire dalla spada diciamo i suoi tentacoli paglieschi io credo di no perché c'è una scena in cui Zoro taglia tutto questo uomo di paglia e Hawkins non si fa male cioè si fa male perché gli arriva anche a lui il fendente che Zoro ha sparato al mostro lo super e colpisce anche lui ma non viene danneggiato dall'intero taglio che viene fatto al mostro quindi io penso che se fosse stata la sua mano una sua estensione avrebbe dovuto avvertire quel colpo per le regole che abbiamo visto del frutto di Hawkins che poi la capacità immensa di Oda è proprio quella di saper non dire tanto di frutti in modo che possono fare quello che vogliono ricordiamoci le lacrime di balena che usa Violet e tanti altri frutti che non spiegati potevano evolversi con ogni potenzialità verso diverse strade fatemi sapere che cosa ne pensate del potere di Hawkins e soprattutto se mi sono perso qualche dettaglio vignetta il manga che lo spiega meglio e se è possibile che ci sia ci troviamo davanti ad un risveglio del frutto alla prossima dove vi parlerò della scommessa di Shanks che non avete capito che ci troviamo che ci troviamo